Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Il quarto commentamento si estende ai doveri degli alunni nei confronti degli insegnanti, dei dipendenti nei confronti dei datori di lavoro, dei cittadini verso la loro patria, i pubblici amministratori e governanti. Allora il principio dell'onorabilità non è soltanto papà e mamma, ma le varie categorie che reggono la società. Vi è un episodio che forse pochi ricordano di una ragazza francese che tenta il suicidio e viene salvata per miracolo. Perché? E lei spiega con molta chiarezza. Perché io vedo mia mamma e mio padre che fanno sempre al ditte tra di loro. Uno mi parla male dell'altro e quando vedono che io voglio bene all'uno e all'altro si inquietano e mi guardano storto e mi maledicono. E allora io ho pensato di togliermi di mezzo. Ai genitori spetta l'educazione dei figli, unitamente alla scuola e alle altre istituzioni che devono vigilare sulla formazione morale, sociale e religiosa dei figli. Costatato che nella maggioranza dei casi la mentalità dei giovani è di avere tutto e subito, i genitori si sforzano di educare i figli sin da piccoli al dominio di sé, all'autocontrollo e alla rinuncia anche delle piccole soddisfazioni. La responsabilità dei genitori deve abbracciare l'educazione morale e spirituale dei figli. Essi daranno con generosità il perdono per le offese e i litigi. La carità di Cristo lo richiede. Tra datori di lavoro e dipendenti, tra autorità civile e cittadini, vi sia una ricerca comune del bene di tutti, nel rispetto della giustizia e della solidarietà. Nel San Paolo, nella lettera agli Efesini dice «Voi padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nella educazione e nella disciplina del Signore». Coloro che sono rivestiti da autorità la devono esercitare come un servizio. La autorità, per essere immagine di Dio, deve emanare leggi giuste e dirette al bene comune. Un'attenzione particolare l'abbia per le categorie più bisognose. O Signore, fa che ogni autorità si preoccupi della formazione umana, rispettando la libertà religiosa e lo sviluppando, la cultura, l'arte, il lavoro e lo sport». Francesco d'Assisi si commuoveva per le necessità dei frati, tanto che da dare anche nelle malattie dei frati, vendere il Nuovo Testamento, la Bibbia e quindi privare la comunità di un testo fondamentale di formazione e di cammino spirituale. Però lo fa perché voleva bene ai suoi frati. Anche Padre Pio aveva attenzione per i genitori e dei religiosi. In Foristeria ascoltava la presentazione di un problema, dava un consiglio e qualche battuta scherzosa per sollevare gli spiriti che si trovavano in afflizione e disperazione.